eccoci qua eccoci a questa nuova puntata di storia in scatola e oggi il tema è l'arc ma l'arte del teatro può essere considerata un'arte suprema ora molto spesso in questi giorni quando si parla di attori di attrici di operatrici dello spettacolo operatori dello spettacolo si parla di un movimento che sta manifestando nelle piazze che sta facendo delle milano sanremo per manifestare l'importanza del settore anche a livello economico e poi molto spesso si parla di teatro per quanto riguarda quello che è negli altri paesi quindi una materia scolastica il fatto che in molti paesi il drama è qualcosa di assolutamente inserito nei programmi didattici nazionali certo è che ogni volta che si parla di teatro si parla sempre di qualcosa di qualcosa che sembra che sembra così un qualcosa di superfluo è sì quando tutto andrà meglio allora potremmo anche goderci il teatro invece no forse eh quello che stiamo perdendo di vista è che proprio il teatro in questo momento ha una funzione suprema superiore perché attraverso il teatro si può raggiungere una eh un livello più alto un livello più importante allora eh oggi eh gli ospiti che avremo e soprattutto le tematiche che affronteremo vanno proprio a rivolgersi al teatro come qualcosa di necessario ma per una nazione necessario per qualcosa che va dal di là allora eh a me che piace giocare molto con le parole ma mi piace anche studiare le parole ecco una parola che in qualche modo vici vedo vicino all'artista e all'attore è la parola samurai molti non sanno che la parola samurai deriva da eh da samuru che vuol dire servire essere al servizio allora l'attore come l'artista sono al servizio di una storia l'attore come le persone che si occupano di teatro sono al servizio di un un lavoro artistico naturalmente quando si parla di teatro molto spesso ehm si parla come qualcosa che ehm che diverte che ehm intrattiene beh credo che il teatro per cui vale la pena appunto eh esserci è un teatro invece che mette di fronte anche a quello che non eh vorremmo vedere che ci mettono di fronte all'ombra allora in questo senso credo che proprio perché appunto il teatro è premio così di di significati di significanti sia necessario un atteggiamento ehm molto più ehm onorevole molto più ehm legato allo studio al lavoro allora proprio in questo senso eh allora ehm ecco perché la parola samurai e ha un codice è un codice d'onore come può essere il bushido no il fatto di poter in qualche modo ricercare attraverso il teatro una forma di onestà di verità di lealtà anche una forma di armonia di bellezza ecco in tutto questo ehm abbiamo la fortuna di avere in Italia e in Europa un centro di ricerca internazionale che è EWACT che è un riferimento per molti artisti per molte persone che si avvicinano al lavoro dell'attore sia in campo teatrale sia in campo cinematografico e allora ecco ecco la possibilità di vivere il teatro non più attraverso dei testi sacri come possono essere quelli di Stanislaschi o di Grotoschi o o di Eugenio Barba ma la possibilità di misurarsi attraverso un lavoro sul campo un lavoro di ricerca e quando io parlo di ricerca parlo di ricerca teatrale ma anche di ricerca ricerca scientifica detto questo ve li presento è davvero un piacere avere qui a storia in scatola Paolo Antonio Simeoni e Alessia pellegrino ma dopo la sigla eccoci qua benvenuti ciao Raffaele grazie per l'invito grazie a voi allora dunque tanto segnala delle scelte perfetto ecco allora benvenuti nel frattempo vi dico che non credo oggi non c'è perché c'è un po' di un corso che sta portando avanti e non è detto che il magnifico Furini non venga a trovarci perché Furini giustamente da magnifico arriva a sparagliare tutti i discorsi che facciamo dunque allora siamo in un momento molto nevragico no per la cultura e vorrei farvi una domanda ad entrambi poi segnala ad Alessia che c'è un po' di riverbero con con la voce però la risolviamo dunque oggi l'attività di EUACT a livello ricerca di studio come sta procedendo come sta andando nonostante la crisi rispondo io sì ma onestamente da maggio del 2020 in poi stiamo procedendo a confidele stiamo lavorando forse addirittura più di prima e quindi il lavoro di EUACT continua si sta intensificando si sta affinando sempre di più anche dal punto di vista tecnico dei progetti nel rapporto con gli attori sembra così di cattivo gusto affermare questo in questo momento di difficoltà di di tanti colleghi però c'è da dire anche che questo avviene anche per una coerenza di lavoro messo in atto in questi anni che si è sempre sviluppato e ha voluto avere un'identità come un mondo parallelo fondamentalmente capace di interfacciarsi con quello che è considerato il mondo reale dello spettacolo ogni volta che lo volessi ogni volta che fosse interpellato però con una forte decisione rispetto al creare un binario parallelo di senso dell'arte di senso della ricerca di senso del rapporto con il mondo dello spettacolo che in questo momento sta sopravvivendo grazie a questa coerenza Certo, quindi comunque il lavoro sul lungo periodo, sullo studio, sull'incontro di artisti perché ogni ritiro, ogni seminario, ogni laboratorio è un evento perché io ho avuto la fortuna di partecipare ai ritiri, ai seminari e questa è una domanda che pongo ad Alessia perché ogni volta che AWACT organizza un evento diventa poi un motore per produzioni, per collaborazioni perché io davvero attraverso questo riesco veramente poi a costruire durante l'anno perché il percorso dell'attore è un percorso di solitudine per quello che parlo dei samurai perché il samurai è sempre da solo fedele alla tecnica, fedele al proprio rigore Alessia cosa ne pensi? Come mai succedono questi piccoli miracoli a AWACT? Allora, mi dispiace, pensavo di avere le cuffiette ma le mie cuffiette bluetooth sono scariche quindi non le riesco a usare Il bluetooth è questo, il bluetooth si scarica Sì, e non trovo altre cuffiette tradizionali Non c'è problema Perché adesso Vai, vai Allora, la questione è questa secondo me è che si arriva ai seminari di Paola ai nostri seminari volendo dedicarsi completamente alla propria arte, al proprio stile alla propria ricerca, al proprio nutrimento Quindi si arriva senza pressione di concorrenza di competizione per cui gli attori sono completamente liberi puliti, si approcciano al lavoro come samurai, come dici tu che io abbraccio completamente come visione e quindi c'è l'incontro di individui reali di individui centrati e quando si incontrano individui ben centrati si dà vita a una comunità sana che non è per dipendenza ma è per scambio reciproco reale perché nel momento in cui ci centriamo su di noi, stiamo in equilibrio con noi stessi allora possiamo trasmettere equilibrio all'altro e quindi al gruppo e nei nostri seminari si respira sempre un po' quest'aria qua ed è una cosa che viene molto apprezzata da chi ci incontra da chi lavora con noi e che proprio rimane fuori la competizione l'accanimento per la professione e da noi è un gioco che si conduce con grande serietà e quindi ci si diverte insieme senza... Certo, voglio sottolineare il fatto che appunto il divertimento il gioco viene fatto assolutamente con l'accezione facciamo veramente sul serio cioè nel senso che ecco perché il gioco mette davvero in gioco tutte le possibilità umane, artistiche delle persone che partecipo ti ho mutato Alessia perché sennò c'era questo riverbo quindi e colgo l'occasione di questa piccola pausa per salutare le persone che ci stanno guardando in questo momento sicuramente Monica Baratta poi c'è Daniela Salvo che ci sta guardando ha messo anche il like allora poi c'è Claudia Boveradi Bovedani poi c'è Ilaria Colavito che è una cantante lirica di Milano e poi Paola Schiaffino naturalmente poi ce ne sono altri ma mettete dei commenti salutate se volete fare delle domande allora Brovedani sì sì ma io lo dico sempre allora Claudia Brovedani allora io dico una cosa perché io sono la sincrona a casa grande io ho due grandi maestri uno è Ghezzi perché è assincrono e l'altro è Luca Giurato quindi figurati ho fatto i corsi da Luca Giurato quindi lui una volta debuttò dicendo cari miei telespacciatori così allora ogni tanto mi incarto dunque detto questo il fatto che sia al servizio della storia al servizio del gruppo cercando proprio una ricerca che non sia per forza fine a uno spettacolo ma che sia poi l'ispirazione per uno spettacolo parte da lontanissimo e il maestro Paolo Antonio un giorno mi ha parlato di Tommaso Salvini che è stato l'ispiratore di Stanislavski questa è una storia fantastica perché molto spesso l'italiano pensa alla recitazione come qualcosa che viene dall'estero noi siamo un po' esterofidi com'è questa storia perché è bellissima la storia di Tommaso Salvini sì certo infatti poco fa Alessia ha parlato del concetto di comunità senza ombra di dubbio Stanislavski è stato l'uomo in grado in un periodo in cui c'era una forte decadenza del teatro russo in particolare in certi casi europeo in generale per il fatto che ovviamente la nostra arte è estremamente delicata è difficile per cui costantemente ha bisogno giustamente di ricostruirsi inevitabilmente va verso fasi di sclerotizzazione o di spacimento quindi in quel momento è stato lui a creare le condizioni per una rinascita del concetto stesso dell'approccio all'arte dell'attore e ha creato per l'appunto grazie a questo impegno straordinario e anche ai soldi che aveva da mettere a disposizione con l'aiuto di Nemirovic una comunità eccezionale da cui sono nati grandi maestri a loro volta dei geni che poi come sappiamo hanno diffuso un metodo in tutto il mondo quindi si pensa a Stanislavski come una specie di anno zero dell'arte teatrale in un certo senso ma ovviamente lui stesso ha tenuto accesa una forma di tradizione del senso dell'arte che aveva visto con i suoi occhi cioè la grande ispirazione gli era venuta proprio da delle tournée di due attori italiani arcinotti naturalmente erano raduse in particolare e Tommaso Salvini Salvini per lui è diventato in qualche modo un'ossessione perché aveva visto il famoso otello di Salvini e l'otello di Salvini era interpretato da un uomo con un'aria borghese disfatto fisicamente quasi obeso che che non agiva troppo sul palcoscenico ma che stava tre ore a concentrarsi prima dello spettacolo e a canalizzare evidentemente quei contenuti e quelle energie che erano richiesti per riuscire a trasmettere a farsi appunto da tramite col pubblico di quei contenuti potentissimi quindi nonostante il suo corpo non avesse le caratteristiche adatte al personaggio tutto il senso dell'otello arrivava è stata un po' un rivalisco un'ossessione per Stanislavski che ha tentato anche poi di metterlo in scena di interpretarlo anche con insuccessi perché ricordiamo che la vita di Stanislavski è stata costellata di grandi trionfi ma anche di tonfi clamorosi in ogni caso ha percepito evidentemente da Salvini un tipo di lavoro che era non in una forma stereotipata ma dall'interno verso l'esterno che era il fiore stesso del senso dell'attore per lui e questo ha perseguito per tutta la vita e con un'onestà oggettivamente commovente perché la grandezza di Stanislavski secondo me consiste in un dettaglio in particolare nel fatto che quando ha fatto la famosa tournée americana col teatro d'arte con un trionfo europea e americana prima in Europa poi in America un trionfo internazionale lui proprio in quel momento era nel pieno della sua depressione cioè era disperato perché dall'interno in verità stava vedendo che qualcosa non funzionava più che bisognava rinnovare e quindi è arrivato poi all'ultima fase della sua ricerca allora cioè già una figura come la sua che proprio nel momento di massimo trionfo vive la disperazione di perdere il contatto col senso della propria arte è una misura della sua bellezza beh allora Paolo tu mi tanto tanto c'è Claudia Brovedani che ringrazia Claudia io ti ho chiamato Claudia tutta la vita ora Brovedani non l'avevo mai detto adesso poi a casa studierò Claudia grazie a te anzi e poi ci sono altre persone che ci seguono Lena Duraccio saluto anche Chiara Sibille Lucia Ferlino e tra poco c'è una sorpresa però la tua storia Paolo mi avvicina molto alla storia invece di un'altra depressione perché a volte che fu proprio di Kurosawa in un periodo particolare della sua vita che però appunto diede vita poi lui alla storia dei dei samurai anche i sette samurai quindi ci sono tanti maestri che si avvicinarono proprio a Kurosawa però Kurosawa è chiaro che forse incarna il l'unione tra un certo tipo di cultura e un tipo di cultura quella occidentale che mise d'accordo tutti con un film che segnalo che è Dersu Usala che vinse contemporaneamente l'Oscar come migliore film straniero agli Oscar ma anche l'Oscar proprio per l'Unione Sovietica ora la difficoltà dell'artista è quello di vivere su un filo è una sorta di equilibrista perché mette in gioco tutto e si scopre anche a molte difficoltà anche interiori prima di parlarne con Alessia Alessia Pellegrino perché di questo voglio parlare del lavoro dell'attore però è arrivato il magnifico io lo sapevo che poteva arrivare però allora arriva il magnifico di Paolo Antonio Simeoni ha una cosa in comune sicuramente perché già te lo dissi qualche tempo fa e allora te lo presento lui è il magnifico il magnifico Furini eccolo qua il magnifico Furini che presenterò naturalmente non dirò che sei stato giornalista dell'Espresso nel periodo di Mani Pulite non dirò che sei autore Garzanti e quindi ecco il magnifico semplicemente il magnifico Furini ma tu mi dici magnifico poi io mi monto la testa non è giusto dai ho passato io sentivo Stanislavski ho passato il pomeriggio io oggi al consolato russo a Milano eh sì sono andato a chiedere sono andato a chiedere il visto del passaporto per andare a fare il vaccino Sputnik non me l'hanno dato il visto il vaccino ho trovato chi per farlo io ho il terrore di questo virus chiedo scusa non c'entra niente col teatro no 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 va bene ma no allora qua è giusto nonostante le contaminazioni sono giuste ma no è un'insalata mista ci sta dentro tutto no io come tutti non è che sono l'unico non è che sono ipocondriaco io che allora ho paura del virus il virus è vincoloso eccetera eccetera penso penso magari non è condivisa che di essere nelle mani di una valanga di incapaci di inetti di gente messa lì per caso e potrei farti mille esempi no per quanto riguarda il virus in Italia quando arriveranno quando ce lo faranno quando ci porteranno fuori da sta situazione esatto e quindi ho pensato alla Russia ho preso dei contatti una roba e l'altra tutto pronto ma sono andato al consolato e mi ha detto lei fa il giornalista c'era scritto no giornalisti non li vogliono non li vogliono non li vogliono io dico no io faccio un impiegato però né per motivi di studio né sanitari né di lavoro né tanto nel giornalista il virus non lo danno a nessuno lo danno soltanto se tu sei operaio di una fabbrica che lì ha degli invianti devi andare a fare la manutenzione ma io non ho trovato il gancio per dimostrarmi un operaio in grado di fare la manutenzione a un macchinario installato in Russia la linea limpida oggettiva e onesta dei giornalisti occidentali sulla Russia mi sembra strano ma senti ma Luigi ma scusa un attimo tu adesso che vuoi ma non ti conviene aspettare il vaccino quello che puoi anche usarlo come shampoo volendo quello Johnson & Johnson io mi ricordo lo sciampolo lo sciampolo senti allora basta un attimo ma ti puoi spostare un attimo Luigi ti puoi spostare un attimo sulla tua destra no dall'altra parte dall'altra parte vedi vedi Paolo cosa intendo io vedi dei colori vedi dietro dietro al Luigi Furini c'è un pallone con i colori giusti giusti ecco allora dunque Luigi in questa situazione così di di difficoltà ora è chiaro che la cultura stiamo parlando di cultura sta avendo sicuramente una è un po' un'ecatombe perché tanti veramente hanno difficoltà a portare avanti i progetti ma non solo anche a portare a resistere no e purtroppo non è non è da poco non è non è diciamo è successo anche qualcosa ultimamente che attraverso proprio anche le testimonianze degli operatori delle operatrici dello spettacolo si ha difficoltà e credo che oggi anche per chi fa questo mestiere ci sia anche bisogno di magari utilizzarlo anche come come occasione allora chiedo ad Alessia perché non si va più a teatro per ovvie ragioni le produzioni sono congelate quanto è importante poter prendersi del tempo per un attore per un'attrice e mettersi a disposizione della ricerca perché attraverso la ricerca si può arrivare veramente a una sintesi superiore questo è un po' il lavoro che si fa in EUACT ma tu com'è che hai conosciuto EUACT com'è che è stato il tuo percorso Alessia in verità sono arrivata abbastanza agli albori di EUACT no Paolo sì al terzo anno ma semplicemente Paolo era il mio insegnante di recitazione in accademia e quindi poi di conseguenza dopo gli anni d'accademia poi qualche anno che io sono andata fuori ho studiato un po' in giro e poi sono ritornata nei seminari di Paolo nell'anno della cultura Italia-Ungheria e quindi ho trovato una casa ma già la percepivo prima la casa nelle lezioni di Paolo perché è questa la cosa bella è che l'arte il sistema di lavoro di Paolo che deriva da quello di Stanislavski crea immediatamente un luogo protetto e quindi di casa appunto allora rispetto a quello che dicevi tu della ricerca mentre le produzioni sono ferme io in realtà sono sono del parere che la ricerca e le produzioni dovrebbero andare di pari passo per un attore per i registi per chiunque ma soprattutto per gli attori perché gli attori forniscono materiale ai registi e i registi fanno delle richieste che molto spesso mettono in crisi gli attori allora quale metodo migliore se non andare a ricercare tutto ciò che necessita la messa in scena poi per il palcoscenico per il pubblico quindi la ricerca deve essere fatta sempre secondo me ma poi non parliamo di ricerca come qualcosa di staccato dalla realtà staccato dal mondo professionale perché è il lavoro dell'attore cioè si ricerca il personaggio per costruirlo sì infatti io voglio un po' arrivare a questo perché il punto è un po' questo il fatto che molto spesso si fanno dei lavori di ricerca poi dal momento che ci avviciniamo al lavoro con il regista nelle produzioni le regole molto spesso sono abbiamo 15 giorni c'è un forfè per per le prove c'è un totta replica fino alla quinta replica poi ci sarà qualcosa poi vediamo comunque e il risultato qual è 15 se va bene 20 giorni di prove in maniera diciamo sincopata poi la prima le repliche le famose 5 repliche dove uno ha una una paga e poi si è dispersi direi ecco questo è il termine più giusto e tutto questo non fa altro che mortificare il lavoro allora visto che EWACT ha un ruolo oggi all'interno anche dei teatri stabili perché comunque il teatro stabile di Genova ha come riferimento il lavoro di EWACT e quindi porta avanti è una domanda che rivolga a tutti è possibile creare qualcosa che sia più organico che sia più neanche di ricerca inteso come dobbiamo trovare qualcosa dobbiamo studiare ma proprio di respiro c'è un metodo che potrebbe essere di collaborazione tra i teatri tra le scuole per creare più respiro per il teatro a dire il vero è una cosa che io tento di fare da quando lavoro il tentativo di creare ponti proprio in quanto noi siamo nomadi sradicati il mio lavoro è sempre stato completamente da cane sciolto completamente libero nonostante poi ovviamente lavori anche per le istituzioni ma la possibilità di creare ponti tra strutture tra professionisti è sempre quella a cui ho ospirato e che ho cercato di tenere aperte onestamente non è facile non è facile perché c'è un tipo di atteggiamento di cultura che spesso è contraria anzi il problema nel nostro ambiente italiano nelle varie parrocchie che lo caratterizzano è proprio che più alta è la qualità di quello che esprimi e più tentano di tenerti a distanza questo fa il paio con quello che il nostro amico diceva della politica purtroppo questo atteggiamento comunitario e la semplice intelligenza di capire che le mie qualità insieme alle tue ci arricchiscono non fa parte dell'ambiente che viviamo sì c'è un po' questo aspetto del lavoro ma sempre a isole questo lo dico anche al Vigi nel senso che il panorama teatrale purtroppo assomiglia molto di più a un arcipelago che a una nazione sono delle isolette e in questo periodo anche a causa della crisi è molto coerente con il discorso sul samurai che facevi all'inizio in modo intelligente perché l'atteggiamento di cui parliamo ha a che fare semplicemente con la paura allora quello che noi vediamo nei seminari come tu sai bene è che certi difetti che noi portiamo in scena poi ovviamente sono difetti che ci portiamo anche nella vita sono difetti che se un attore ha come interprete poi ce l'ha anche come scrittore ci sono semplicemente dei nuclei problematici dei blocchi che noi cerchiamo costantemente di affrontare e di superare allora uno degli elementi fondamentali della nostra arte è giustamente la paura perché l'attore ha paura del pubblico ha paura di andare in scena è giusto è normale che sia così ha paura ad affrontare certe energie elementi emotivi di fronte ai quali viene messo dall'opera e dal personaggio quindi la paura fa parte integrante del nostro lavoro quindi la tecnica vera è quella che ti permette di usare la paura di trasformarla di modificarla di metterla al servizio della tua arte purtroppo quello che noi vediamo nella sclerotizzazione invece della nostra arte è che ci si trincera contro la paura si producono sovrastrutture si producono barriere si producono ostacoli artificiali perché non si è in grado di metterla al proprio servizio di affrontarla veramente così come lo vediamo nel lavoro di un attore lo vediamo a livello istituzionale lo vediamo nei direttori dei teatri hanno paura hanno paura di quello che fanno della qualità di quello che possono esprimere di quello che dicono soprattutto di un confronto di perdere i soldi che hanno accumulato e quindi quando hai paura crei i castelli che diventano divisori ovviamente beh questo questo io penso che sia molto importante riconoscerlo a livello personale nel senso che ogni volta che noi siamo comodi dietro le nostre maschere non possiamo produrre verità sicuramente ecco c'è un un commento di Chiara Sibille che dice purtroppo sono d'accordo più si punta in alto più in modo nobile più si è tenuti a distanza però credo che a questo punto oggi e l'abbiamo visto anche con tanti teatri stabili che sono crollati in qualche modo anche economicamente quanto mai è necessaria una cooperazione una collaborazione una una condivisione ecco forse la parola condividere è quanto mai necessaria perché se no si sparisce cioè nel senso si si frammenta tutto chiedo chiedo una cosa ad Alessia che ecco quando si parla di rassegne festival in Italia e in Europa hai notato delle differenze perché so che EWACT lavora in tutta Europa e comunque avete dei riferimenti anche all'estero aspetta che ti aspetta che ti ma fai una domanda a me che io non sono proprio bravissima nella gestione delle cose della burocrazia no però contatti sono pesca organizzate anche dei laboratori anche a lei sì 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 no lavoriamo anche con teatri tra Romania e Ungheria è capitato cinque anni fa di portare la nostra performance a Berlino dove vorrei tornarci presto dove è nato EWACT 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 ma sì e quindi ha un respiro europeo purtroppo sono arrivati quasi arrivati e quindi noi abbiamo di solito mezz'ora allora non vorrei andare troppo oltre ma vorrei ancora chiacchierare con voi qualche minuto ma lo faccio presente quindi un respiro internazionale rimandiamo ritorno un po' a Paolo ma tu ti ricordi quella sera quel giorno che hai detto da oggi inizia EWACT come è andato perché quelli sono dei momenti cruciali di una vita ma forse il momento è stato quando ci siamo buttati sulla prima sperimentazione lingue un lavoro che stavo preparando sui demoni Dostoevsky con il personaggio di Nikolai Stavrogin in particolare e ho chiesto a un carissimo amico un grandissimo attore di nome Nikolaus Duc che è stato il primo europeo a entrare all'acto studio un grande attore che ha lavorato con Heiner Willer ai massimi livelli in Germania attore anche rivoluzionario molto impegnato politicamente che mi ha seguito in questo esperimento nello studio di Lena Lessing collega emerita berlinese anche lei formatasi con Susan Batson abbiamo deciso davanti al pubblico totalmente tedesco di fare questo esperimento italiano tedesco quindi gran parte del testo era mio in italiano conseguentemente quindi i presenti non potevano capire nulla allora quando questo lavoro sulla confessione di Nikolai Stavrogin è finito e senza falsa molestia insomma il pubblico era schiantato ed emotivamente completamente aperto mi sono detto va bene questo percorso insieme internazionale in quel momento funziona ha avuto molti anni di esperienza internazionale in cui abbiamo fatto altri esperimenti di questo tipo dal momento che sai che il nostro metodo si fonda sulle azioni fisiche e gli stati emotivi e quindi si arriva anche col pieno rispetto della lingua e della parola alla perfetta formalizzazione della parola ma come ultima istanza quindi il fatto che la tecnica che stavamo affrontando avesse un impatto così immediato evidente autentico su un pubblico anche al di là della barriera della lingua mi ha convinto che fosse la soluzione giusta e la direzione giusta quello è il momento in cui il nato è avanti bene allora sono contento perché davvero oggi abbiamo la possibilità di raccontare qualcosa che è in Italia che viene portato anche all'estero e Luigi eccomi qua allora andiamo scusa ma io e te andiamo in Romania a fare il seminario cioè andiamo un pochino io e te perché secondo me io e te potremmo andare e poi da lì magari trovi un passaggio e vai in route magari in taxi non lo so qualcosa in Ungheria stanno dando anche lo Sputnik e anche quello cinese se ti interessa ma ma non dovevi dirglielo Paolo ma Luigi sì ho letto questa cosa ho letto non lo so perché in Romania scusa in Ungheria poi a chi lo danno mentre in Russia lo danno se tu vai in una farmacia paghi il dovuto e te lo danno te lo fa il farmacista direttamente la futura nel braccio in Ungheria non lo so non vorrei andare lì e poi ti dicono lei è italiano perché qui è tutto complicato no a San Marino lo danno ai San Marino Vigi ma devi trovare delle frasi in Ungherese conoscere quelle tre o quattro frasi di convenienza magari un po' di dialetto ehi quella roba è lì su vabbè ma ci lavori ma dai Budapest Danubio quelle quattro parole va bene allora ci mettono in canale Danubio no Duna ci mettono in galera a casa grande ci mettono tre mesi di galera giusto aspettiamo lo shampoo dai aspettiamo lo shampoo allora dunque siamo arrivati al quarantesimo minuto siamo quasi in zona Cesarini direi no zona Cesarini proprio no però colgo l'occasione davvero per chiedere invece una cosa molto interessante perché le persone che ci seguono possono a questo punto chiederlo ma quando è la prossima occasione per poter cercare di accedere a un vostro laboratorio di pure tutte le date adesso che sai mani di me ok vedete che qua ecco sul panorama internazionale dei festival però invece sulle date la relazione con gli esseri ma allora io sono brava sono brava a organizzare da sola per conto mio sul mio computer ma senza interagire con nessuno quando c'è bisogno di una relazione con l'esterno io mi tiro indietro allora i prossimi seminari sono a Roma dal 25 al 29 c'è già in realtà una lista d'attesa aperta però magari ci saranno tante defezioni magari poi più avanti anche dal 25 al 29 sì sì in pieno e poi a Genova invece sarà dal 14 al 18 aprile e a Torino dal 21 al 25 aprile poi i seminari si chiudono per un po' ci dedicheremo ad altro e ritorneremo in estate col medico ritiero allora io allora se il 21 marzo c'è anche una performance di Arezzo la Passio la chiesa di Sant'Ignazio la Passio in Sant'Ignazio vabbè scusate parlando con me questa cosa di rito giurato io l'ho visto quello scusato il 31 marzo saremo in dillo Paolo Sant'Ignazio chiesa di Sant'Ignazio a Roma quindi a Roma Massio quello che tu hai visto sia la tosse esattamente allora ricordo il appuntamento genovese al quale forse c'è ancora posto però appunto ci sono delle liste di attesa nel frattempo vi saluta anche Marcella Cortese ecco che dice grande Paolo ciao Marcella e allora dai ci salutiamo a me dispiace un po' però saluto Elena Duraccio Monica Baratta Daniela Salvo Erika Guidi Cinzia Cordella che conosciamo benissimo grande attrice Chiara Sibille Lucia Ferlino Claudia Brovedani Ivana Colavito e Paola Schiaffino grazie grazie davvero perché è molto prezioso il lavoro che portate avanti ed è importante per tutte le persone che si occupano di cultura sapere che esiste EWACT questo è fondamentale perché purtroppo siamo in un momento in cui la cultura la ricerca tutto quello che riguarda l'arte in generale viene mortificato quindi avanti così e grazie grazie ancora grazie a te grazie ci vediamo presto ciao ragazzi ci vediamo ci vediamo mercoledì con Marco Taddei autore regista attore di Genova ciao ci vediamo ciao 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 ciao